volevo fare un grosso in bocca al lupo la rappresentativa della serie d che tra poco giocherete il torneo di viareggio io ho avuto la fortuna di fare due edizioni una di vincerla e una di perderla in finale ma mi auguro che per voi come squadra possiate dare tutto voi stessi giocate da squadra con grande sacrificio un grande impegno con il vostro talento e che possa essere un trampolino di lancio per il professionismo quindi in bocca al lupo e buon torneo ciao ragazzi